Vi auguro un buongiorno e un buon ferragosto. Il messaggio di oggi è positività, fiducia e ottimismo. Energia e aspettative positive aprono la porta a splendide esperienze e opportunità. Fai in modo che l'energia negativa e gli ostacoli temporanei non interferiscono con il tuo cammino. Abbi fiducia e vai avanti. Questa carta ti ricorda che la sorgente e l'universo sono al tuo fianco. L'unico blocco è stata la preoccupazione. Ti basterà spostarti in uno spazio di fiducia perché subito il flusso di abbondanza registra un cambiamento positivo. Se ti senti il bisogno prega e chiedi aiuto per rimuovere le preoccupazioni sostituendole con l'ottimismo. Ricorda che la sorgente è la fonte di ogni cosa e veglia su di te e i tuoi cari come un genitore amorevole. La sorgente rispetta anche le scelte del libero arbitrio. Perciò se hai fatto commenti negativi alla tua situazione economica non interferirà. La divina intelligenza della sorgente nella sua infinita saggezza e creatività ha già tutte le soluzioni. Le riceverai sotto forma di idee e intuizioni quando sei rilassato e dunque più disponibile ad ascoltare la tua voce interiore. La positività è particolarmente utile nel momento in cui cerchi di manifestare una maggiore abbondanza. Il denaro è soltanto energia, un'energia che desideriamo trarre a noi. È proprio come noi siamo riluttanti a stare con persone negative. È più probabile che il denaro circondi persone positive. Lo stesso vale per qualsiasi altro tipo di abbondanza che tu voglia manifestare. Per esempio se il tuo obiettivo è l'abbondanza di salute, parlandone e pensandone in modo positivo otterrai un effetto migliore che discutendone in maniera negativa. L'energia positiva dietro le parole e i pensieri può cambiare in meglio in qualsiasi situazione. Questo è il messaggio di oggi. Vi auguro una buona giornata.